Un duro colpo è stato sferrato contro il clan Casamonica a Roma grazie ad una grossa operazione Noi proteggiamo Roma della Polizia di Stato che ha visto impiegati 150 agenti. 20 gli arresti per associazione di stampo mafioso, estorsione, usura e intestazione fittizia di beni e maxi sequestro antimafia per 20 milioni di euro. Una vittoria per Roma e i suoi cittadini, ha immediatamente scritto su Twitter la sindaca Virginia Raggi. Avanti a testa alta, fuori la mafia da Roma, non abbassiamo lo sguardo.